Musica Si è ufficialmente insediato il nuovo comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela. Si tratta del Maggiore Antonio De Rosa, 43 anni, nativo di Firenze. Arriva dalla compagnia di Santa Margherita Ligure. Prende il posto dell'omologo Valerio Marra, trasferito a Roma, dove dirigerà il comando per la tutela del patrimonio culturale. Io ho avuto un'accoglienza splendida, molto calorosa. Sicuramente l'impegno che vengo a coprire è molto impegnativo, però sono certo che mi troverò bene sia dal punto di vista ambientale, sia perché ho la fortuna di trovare un reparto efficiente, che chi mi ha preceduto ha potuto rodare in questa maniera. E quindi penso che potremo lavorare bene con la collaborazione della cittadinanza per garantire sempre maggior sicurezza e tranquillità a questa città. A proposito, cosa ne ha lasciato il suo predecessore? Mi ha lasciato tanti buoni ricordi di questa esperienza vissuta, sia per la gente che ha trovato, sia per quanto riguarda i rapporti interistituzionali che sono ottimi, che sono fondamentali per poter lavorare bene. Una città difficile, Gela. Le chiedo quali sono le emergenze da inseguire e sulle quali state lavorando? Guardi, è una città che ha tutto un background storico relativa a criminalità organizzata. È chiaro che lavoreremo in maniera incisiva anche su questo aspetto, però è una città che vedo che sta sbocciando anche per quanto riguarda la criminalità predatoria, quella più percepita dai cittadini. Quindi il nostro impegno sarà anche rivolto a questo aspetto. Un altro aspetto fondamentale che seguirò, seguendo anche quello che ha fatto chi mi ha preceduto, è quello del contatto con le scuole, perché bisogna guardare al futuro, guardando alla formazione delle nuove generazioni. Quindi sarà molto stretta la collaborazione con i dirigenti scolastici e con tutte le altre istituzioni che si prodigano per il futuro di questa città. Numerose operazioni negli ultimi giorni antidroga, scoperte tante piantagioni di canapa indiana. Le chiedo, se c'è una vendita vuol dire che c'è una richiesta? Assolutamente. Purtroppo anche in quest'area abbiamo constatato che c'è una grandissima richiesta di droga. Peraltro il fatto che venga prodotta in quantità così cospicua consente anche di avere prezzi più bassi sul mercato e quindi agevola il fatto della vendita. Stiamo appunto battendo su questo campo. Poi in questa settimana abbiamo avuto già tre notevoli operazioni da questo punto di vista con la scoperta di tre piantagioni e stiamo continuando a farlo perché la zona, abbiamo visto, è molto florida da questo punto di vista. Denunciare ogni forma di illegalità. Il Masore della Rosa si rivolge direttamente ai gelesi. È fondamentale la collaborazione tra i cittadini. Se vogliamo cambiare lo stato delle cose è importante che la gente prenda fiducia nell'istituzione e si rivolga a noi e alle altre istituzioni per poter superare questa impasse. La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Suorra Cecilia Basarocco, un grave atto di responsabilità umana e politica della regione. Non usa mezzi termini dal sindaco di Niscemi Francesco Larosa che da ieri ha ripreso il presidio ad oltranza all'ingresso della struttura ospedaliera. Una protesta al fine di salvaguardare e tutelare il pronto soccorso per dire no al piano di riordino della rete ospedaliera della regione. Una protesta pacifica al momento. La presa in giro non sta bene e non va bene a nessuno. Noi avevamo avuto da parte dell'assessore alcune garanzie. Vengono meno. Ci siamo fermati. Però se c'è l'esigenza di continuare adesso andremo avanti ad oltranza. Poi vediamo fino a che punto è pacifico. Visto che mi pare il frutto di un'insolazione di fine estate. Perché qualcuno finita l'estate ha intenzione di stravolgere la sanità in Sicilia. Il problema non è Niscemi, il problema è la sanità siciliana. E non mi voglio ergere ad essere il paladino della salute e della sanità in Sicilia. Però Dio mio, di cosa state parlando? La salute non va comparata con i numeri. La salute va comparata con tutt'altre cose. La salute non è un bene negoziabile. La salute è quello che oggi contraddistingue da una civiltà che è evoluta e una civiltà che va verso l'involuzione. Se noi dovremmo andare verso l'involuzione, come ha deciso il governo, la regione, che in questo momento amministra, ha sbagliato strada. Qua si vuole ritornare indietro di migliaia di anni. Vogliono riportare alle grosse stazioni, non le voglio chiamare più nemmeno città, ne aree metropolitane, dove tutto è consentito, dove ci stanno i servizi. Mentre da noi iniziamo dal giudice di pace e poi iniziamo dall'ufficio del lavoro. Poi si va avanti con il reparte di ostetricia, di medicina, di chirurgia. Andiamo avanti con tutto. Adesso ci volete togliere anche il pronto soccorso. Vedete, questo non è possibile, non è praticabile. Toglietelo dalla testa, andate a curarvi se avete qualche problema, perché il problema sarà affrontato in modo diverso questa volta. Vanno dei problemi qui a Niscemini a tanti, dall'omorso all'ospedale, alle strade interrotte, alla mancanza d'acqua? Sì, i problemi ci stanno, vanno affrontati. Quando si parla di un problema di viabilità si può anche intervenire, ci stanno i tempi, i modi. Quando si parla di mosse, fino ad ora ci siamo nuovamente ricostituiti, perso CGA, la Cassazione. Possiamo andare avanti con le querelle, ma sulla vita delle persone penso che tempo da perdere non ce n'è. Noi vogliamo semplicemente essere assicurati da parte del governo regionale che quello che si è detto sia quasi una bufala, oppure un intervento fuori luogo. A questo mi rivolgo a chi in questo momento amministra, chi in questo momento si fa garante della nostra Costituzione, si fa garante della cittadinanza italiana, si fa garante di quello che deve essere la struttura Italia. Se questo è il modo per iniziare, iniziamo dalle periferie. Che Dio ci guardi di quello che succederà nelle centralità. Un decimo delle risorse sanziate nel patto per la Sicilia, firmato ad Agrigento sabato scorso dal Premier Matteo Renzi, sarà destinato a finanziare progetti infrastrutturali a Gela. Nel dettaglio si tratta di più di 60 interventi previsti, 670 milioni di euro per il porto, 121 milioni per l'itinerario nord-sud della Gela Camastra, 251 milioni per la Siracusa Gela, 3 milioni per il museo, 10 milioni per la riqualificazione urbana e 20 milioni per le dighe. Il governo Renzi, con fatti e provvedimenti concreti, sta dimostrando di vera cuore le sorti del mezzogiorno, a differenza di altri governi che hanno toccato questo tema solamente in campagna elettorale. E quanto sostiene il PD di Gela? Apprezziamo e ci complimentiamo con il governo nazionale per l'attenzione mostrata per il mezzogiorno, per la Sicilia e in particolare per Gela. Un decimo delle risorse sono destinate alla nostra città e quindi una grande opportunità di sviluppo in un territorio che sta soffrendo tantissimo a seguito della chiusura del petrochimico. Quindi queste risorse potranno portare un'apertura dei cantiere e un abboccato di ossigeno alla nostra economia. E queste risorse quanto arriveranno? Ma chiaramente c'è tutto un iter. Infatti invitiamo l'amministrazione comunale ad attivare un ufficio speciale, tecnico e amministrativo che vada a monitorare i progetti e rimuovere eventuali criticità. Gli enti locali devono fare la loro parte. L'amministrazione messinese ritengo che deve sfruttare queste risorse. Il mio auspicio è che l'amministrazione invece di attaccare in modo strumentale sistematicamente il Partito Democratico invece ringrazia il Governo nazionale e il Premier Renzi per l'attenzione mostrata nei confronti del nostro territorio anche perché loro sono 15 mesi che governano questa città e devono iniziare a spiegare ai cittadini cosa stanno facendo per creare posti di lavoro nel nostro territorio. Quello che dice sostanzialmente è che non bisogna avere nessun colore politico quando si parla di occupazione e di risorse importanti. Ma guardate c'è una polemica sui media di una foto fatta da due sindaci grillini Portembeduco e Favaro con tutti gli altri sindaci il Premier Renzi e il Governatore della Sicilia Crocetta. Chiaramente i rapporti istituzionali vanno tenuti e condannosi ma come condanno io penso che un'opinione diffusa è il fatto che un sindaco viene invitato in una manifestazione un incontro per la firma di un patto in cui un patto per il Sud per la Sicilia che prevede per Gela circa 500 milioni di euro e il sindaco non va a questa manifestazione è una cosa da condannare perché una cosa sono le battaglie un'altra cosa invece mantenendo un rapporto istituzionale con la presidenza della regione è il Governo nazionale. Parliamo del sindaco messinese? Chiaramente che parliamo del sindaco messinese è stato lui che si è vandato di questa cosa ma assolutamente non c'è niente di che vandarsi anche perché se a Gela nei prossimi anni si apriranno dei candieri questo sarà grazie all'attenzione che il Governo regionale e nazionale hanno mostrato nei confronti della nostra città. Ha presentato un'interrogazione al Presidente della regione Rosario Crocetta e all'assessore per le infrastrutture e la mobilità chiedendo urgenti provvedimenti per la realizzazione del porto rifugio di Gela il deputato regionale di Forza Etaria il gelese Pino Federico sottolinea che le strategie di intervento per il settore portuale in Sicilia miravano a far divenire la nostra regione una piattaforma logistica dell'euro mediterraneo e l'intervento volto al potenziamento e al consolidamento delle opere presenti nel porto di Gela Pino Federico sottolinea che c'è un accordo stipulato tra la regione siciliana Eni e Comune di Gela in cui si è stabilito l'impiego di parte della royalties corrisposte dall'Eni a Gela a copertura dei costi per la realizzazione di escavazione di tutta l'area portuale e l'allungamento del braccio di Ponente il porto rifugio di Gela fa parte del piano di sicurezza e di evacuazione della raffineria inoltre risulta insabbiato soprattutto all'imboccatura non consentendo di conseguenza la normale navigazione di tutti i natanti soprattutto quelli adibiti al soccorso a mare servizi antincendio Capitaneria Polmare Pino Federico fa rilevare che il progetto definitivo non esecutivo redatto dalla protezione civile regionale ristagna ancora a tutt'oggi presso gli uffici della protezione civile per la mancanza della firma tra Regione Eni e Comune di Gela il deputato di Forza Italia Federico si chiede quali sono i motivi ossativi è assurdo che dopo tre mesi quattro mesi dopo un'infinità di riunioni dopo un insieme di viaggi che si fanno a Roma ancora questo benedetto accordo non è stato fatto ci vogliono quei 5 milioni 800 mila euro che mi auguro in settimana mi hanno detto che dovrebbe esserci un incontro finalmente trovano una soluzione anche perché è diventato anche molto pericoloso è diventato pericoloso per il porto industriale è diventato pericoloso ed è anche indecente il fatto che diverse bar che anche stranieri vogliono entrare e si zabbiano questo penso che dà un'immagine negativa della città invece qualcuno che ha un ruolo amministrativo il sindaco con la sua giunta quindi con l'assessore siciliano il presidente della regione e l'Eni finalmente devono sedersi intorno a tavola e decidere non ci vuole per firmare un protocollo sei mesi ci vuole veramente un giorno e la buona volontà firmata ieri al ministero dello sviluppo economico una lettera di intenti per condurre uno studio congiunto di fattibilità per la realizzazione di una base logistica di gas naturale liquefatto a Gela tra il Mise e la regione Sicilia l'amministrazione comunale di Gela ed Eni come proseguimento delle attività incluse nel protocollo d'intesa per l'area gelese nell'ambito delle iniziative indicate nel protocollo del 6 novembre del 2014 Eni ha completato una prima analisi di fattibilità nel dicembre scorso e in seguito ai risultati emersi è stata concordata l'apertura di un tavolo di lavoro congiunto della durata di sei mesi con le istituzioni nazionali regionali e locali volto a condurre una verifica più approfondita dell'opportunità progettuale articolata su quattro linee di studio distinte commerciale tecnico-realizzativa logistico-operativa e regolatoria autorizzativa le attività della lettera di intenti saranno sviluppate congiuntamente da uno gruppo di lavoro composto da tutte le parti coinvolte Eni metterà a disposizione l'esperienza e le proprie competenze tecniche e commerciali in materia di IGNL e grazie al contributo e al ruolo attivo delle istituzioni regionali e comunali sarà possibile investigare il reale interesse e il possibile coinvolgimento di soggetti terzi nello sviluppo e completamento della catena del gas naturale liquefatto inoltre in un contesto normativo nuovo a livello nazionale la partecipazione al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico consentirà di monitorare il quadro regolatorio di riferimento ed individuare il percorso autorizzativo per la realizzazione del progetto ieri a Roma per l'amministrazione comunale erano presenti il sindaco domenico missionese ed il suo vice Simone Siciliano c'erano anche il vice ministro Teresa Belanova il vice presidente della regione siciliana Mariela Lobello e Luigi Ciarrocchi di Eni tra le ipotesi sul tavolo vi è un'infrastruttura logistica di ricezione stoccaggio e distribuzione o un impianto di liquidazione anche alla luce della gestione e della distribuzione più efficiente ed affidabile la lettera di intenti sottoscritta ieri passa anche per l'individuazione di possibili finanziamenti o di agevolazioni finalizzate a rendere più competitivo il GNL distribuito da Gela tra i canali pubblici si guarda il Fondo Europeo per gli investimenti strategici concluso positivamente questo iter di sei mesi ha detto Simone Siciliano che definirà il potenziale di mercato ed individuerà gli operatori industriali e commerciali che in Sicilia sono interessati a partecipare all'iniziativa vincolati al ritiro del protocollo a condizioni prestabilite si passerà alla cosiddetta fase 2 si tratta cioè della fase esecutiva in cui saranno chiusi gli accordi commerciali sarà completata l'ingegneria e saranno condivise le autorizzazioni per l'esecuzione del progetto Chiediamo giustizia senza volere altro da Eni che non sia il risanamento ambientale di la ristoro dei danni che ha causato a questa città lo chiediamo a nome di tutta la città il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Gela interviene in merito all'apertura del processo per disastro ambientale nominato la cui prima udienza ieri al Tribunale è stata rinviata per assenza del giudice nominato l'accusa della procura è quella che chi ha gestito a diversi livelli la raffineria ha inquinato l'aria le falde acquifere il suolo e il mare determinando un disastro ambientale di proporzioni in mani ieri Leni si è presentata con i suoi avvocati tutto a porte chiuse dietro le vetrate del Tribunale fuori la città sconosceva quello che stava accadendo rimarcano Grillini non sapeva che per la prima volta nella storia di Gela il colosso petrolifero veniva accusato di un reato di gravissima portata e non lo sapeva perché l'amministrazione è rimasta silente e scomparsa nel buio senza rilasciare neanche una dichiarazione non ha parlato alle famiglie che vivono il dramma dei malati di tumore non ha detto nulla agli agricoltori che vedono i campi devastati dagli inquinanti non ha alzato la voce contro coloro i quali hanno presumibilmente devastato l'intero territorio gelese l'amministrazione silente si è costituita parte civile ma quello era il minimo davanti ad un processo che è di portata epocale la città dicono i pentastellati deve sapere quello di cui sono accusati i vertici della raffineria lo deve sapere per capire che accettare il lavoro senza pensare alla salute significa uccidere tutti per generazioni il ricatto occupazionale ci ha portato ad avere discariche di idrocarburi a cielo aperto sversamenti in mare falde inquinate ma non è vero che è meglio morire di cancro che di fame perché il cancro ti divora lento mentre la rischio di avere fame ti spinge a vivere a trovare soluzioni che riportino in vita il territorio e mentre noi chiediamo giustizia continua la nota del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle mentre la raffineria è sotto processo a Gela l'amministrazione comunale anziché sollevare un caso mediatico per questo processo si siede al tavolo con Eni e sottoscrive proprio con Eni una lettera di intenti per avviare un tavolo tecnico affinché dove oggi sorgono i ruderi di un disastro passato possano sorgere i presupposti per un nuovo investimento industriale forse anche per un nuovo disastro un bel sistema di liquifazione del GNL in accordo con la stessa azienda che secondo la procura si regge nella nota ci ha devastati certe scelte sono segnali sono azioni che indicano quanto l'amministrazione tenga davvero al futuro dei propri cittadini noi non ci stiamo il Movimento 5 Stelle vuole un futuro nuovo e diverso per Gela non crede alle fantasiose proposte del vice sindaco alla sua GNL senza bonifiche concrete agli accordi continui con chi ci ha offeso Gela ha iniziato la sua battaglia contro un colosso che secondo gli atti degli inquirenti l'ha avvelenata e i cittadini devono saperlo l'amministrazione invece continua a sottoscrivere fantasiosi e improbabili accordi con quel colosso ed anche questo deve essere messo a conoscenza dei cittadini chiudono i pentastellati fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fonde di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto una spaccatura vera e propria altro che partito democratico unito la vartura si è registrata ieri sera in consiglio comunale nasce il gruppo adesso gela ne fanno parte Giuseppe Ventura nominato capogruppo Antonino Biondo e Cristiano Luzzo i tre consiglieri non accettano la definizione che gli è stata data di ribelli noi non siamo ribelli ma siamo semplicemente coerenti con quella che è stata la scelta della popolazione la popolazione ha chiamato a quello che è il partito democratico tutto il centro-sinistra di fare opposizione a questo governo e noi continueremo a farlo in maniera costruttiva ripartendo dal basso dialogando nuovamente con quelli che sono i comitati di quartiere con quelli che sono i cittadini con le istituzioni con le associazioni che hanno perso ogni tipo di riferimento nella politica noi da questo dobbiamo ripartire per costruire anche una grande coalizione di centro-sinistra all'interno del Consiglio Comunale Finalmente escono allo scoperto ha detto ieri in aula il vice capogruppo del PD Carmelo Orlando adesso si capisce chi sta con i poteri forti Ventura e Biondo sono fuori dal partito Da che pulpito viene la predica intanto ci dicesse quali sono questi poteri forti io di forte che ho l'unica cosa forte che ho è la passione nei confronti della politica e quindi è strano che mi vengano a me a parlare di poteri forti quando ho da sempre manifestato la mia intenzione la mia volontà insieme ad altri insieme a Consigliere Biondo insieme a Consigliere Mallusso della netta posizione rispetto all'amministrazione comunale quindi quali sarebbero questi poteri forti poi Orlando dimendica che proprio lui ha sostenuto cinque anni fa contro il PD un'altra lista il Consigliere Orlando dovrebbe ricordarsi che lui il fratello e tutti quanti erano candidati nella lista contro il PD quando allora era candidato sindaco speciale quindi è strano che oggi proprio da lui mi arrivano arrivano queste indicazioni in realtà la segreteria nazionale e quella regionale non la pensano così noi siamo del PD volevamo un PD unito questi vertici locali non lo non lo permettono voi dovete solo pensare che il gruppo consigliere del PD che era di sette componenti e che poteva diventare dieci con l'ingresso di Casano Pane Bianco e Mallusso che ne hanno fatto richiesta poteva diventare da dieci consigliere comunali oggi si ritrova con cinque consigliere comunali noi non contestiamo l'attuale PD perché riteniamo di essere l'unico PD vero di questa città noi non siamo una costola del Partito Democratico noi siamo le viscere del Partito Democratico che reclamano giustizia e che reclamano la legittimità di essere rappresentati come Partito Democratico in questa città lo abbiamo detto a tutti i livelli regionali a livello nazionale e dai vertici regionali dai vertici nazionali abbiamo avuto voglio dire non c'è nessuna questione particolare anzi abbiamo avuto spazio libero per poter fare politica vera su questo territorio io non ho padri non ho padrini non ho illustri genitori sono figlio di un operaio della raffineria come diceva qualche predecessore ma ritengo che noi abbiamo il diritto di fare crescere questa città assumendoci le responsabilità noi personalmente non col telecomando appoggiare Messinese e Siciliano una volta sì e una volta no io ho sempre detto no io intendo responsabilmente governare questa città e governarlo con un nostro programma politico sono infuriati e ci limitiamo solo a questo aggettivo i componenti del comitato del porto tra Golfo di Gela anche ieri sera in consiglio comunale dove era presente una delegazione non sono state date rassicurazioni in merito ai lavori che interesseranno la struttura portuale nessuna notizia certa per lo sblocco dei finanziamenti così come deciso nella riunione del 28 giugno scorso a Palermo nulla di niente quello che è emerso ieri sera non si è capito poi molto anche perché il sindaco è arrivato un po' tardi ieri sera non abbiamo capito nulla e come non abbiamo ancora capito nulla oggi perché in realtà non ci stanno tenendo molto informati sui fatti anzi vedo che c'è proprio un certo velo di oscurità per non far capire quello che stanno facendo in realtà il gruppo di lavoro non è più informato non è più invitato ai tavoli né tecnici nemmeno le riunioni che ci saranno che ci dovrebbero essere oggi e non sappiamo quando a Palermo non stiamo capendo neppure il motivo per cui il gruppo di lavoro non è più informato non viene più aggiornato e quindi tenuto quasi all'oscuro direi forse c'è qualcosa che non quadra fare queste cose all'oscuro non li capiamo vogliamo vogliamo capire l'avvertenza Porto di Gela continua e sono previste azioni eclatanti in una situazione del genere bisogna proprio farsi sentire e spero che ci faremo sentire spero che non ci sia bisogno di farci sentire che quindi oggi firmino come è stato già detto prima anche dall'onorevole Arancio che oggi dovevano firmare il protocollo d'intesa a Palermo spero che sia firmato però ripeto non capisco come mai tutta questa oscurità in questa firma doveva essere una cosa alla luce del sole quindi con tanta di diciamo di pubblicità anche direi perché è una cosa abbastanza interessante quindi non capisco come mai tutto questo questo diciamo celare questa questa firma nel luglio scorso hanno conseguito il diploma con 100 centesimi un vero e proprio esempio per tutti gli alunni che frequentano l'istituto tecnico industriale Morselli di Gela e questa mattina nell'ambito di una cerimonia il dirigente scolastico li ha voluti premiare loro sono Giuseppe Traniti e Andrea Trebbiani consegnate targhe ed un assegno di 200 euro ciascuno diciamo che è un po' la premiazione di un lavoro che è durato molti anni quindi nel triennio ho lavorato molto anche se non me l'aspettavo diciamo perché è sempre una cosa inaspettata però è stato davvero un piacere ricevere questo attestato io ho visto sempre la scuola non come un'istituzione non come qualcosa di esterno ma come una cosa di interna a me quindi vedere che tutti i professori comunque abbiano mi abbiano reso così sono stati loro che mi hanno reso tale quindi io devo a loro molto più di qualsiasi cosa che esista e ora con un'azienda mi stanno sto facendo un corso è un corso di saldatura speciale che poi dopo questo corso mi assumeranno e io entro questa settimana mi iscriverò al Politecnico di Torino in ingegneria elettronica per continuare il percorso che ho iniziato visibilmente soddisfatto il dirigente scolastico bisogna dare merito addetto a chi accelle a scuola noi lì abbiamo sostenuti nel percorso di formativo che hanno fatto negli anni e li abbiamo premiati quando hanno partecipato a gare e concorsi e adesso siamo grati a loro per avere portato e per portare alto il nome di questa istituzione scolastica per averci contaminato con la loro educazione con la loro passione siamo grati anche alle loro famiglie e questo è il significato della manifestazione di oggi quando all'inizio dell'anno il dirigente e i docenti diciamo che teniamo a tutti e a ciascuno questo è vero lo abbiamo manifestato il compito dei docenti e del dirigente è quello di scoprire i talenti di questi studenti di sostenerli e di valorizzarli e secondo me non è di poco momento il fatto di poter dare anche uno stimolo un input agli altri studenti